Ciao a tutti amici di Bici TV e ben trovati a questa nuova puntata siamo qui nel parco della trucca di Bergamo è estate, la sentiamo anche noi abbiamo deciso di venire qui a registrare questa puntata in questi giorni, durante il ferragosto e anche nei giorni precedenti abbiamo seguito per voi alcune manifestazioni alcune gare che ci sono state nel calendario bergamasco ma non solo e per questo abbiamo deciso di proporvele come al solito nella nostra 100 secondi musica 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 Grazie a tutti. 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 Elena Pirrone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.